A Palazzo dei Mari, dal primo cittadino, il sindaco Marco Lenoci. Oggi una giornata, è proprio il caso di dire, nera per la città di Acquia delle Fonti, che vede un suo riferimento importante, una struttura di rilievo a livello non solo nazionale, ma addirittura internazionale per alcuni casi, dal punto di vista tecnico-scientifico, l'ospedale Miulli, in difficoltà perché è scoppiato un incendio stamattina, in tarda mattinata. Il primo cittadino, come ha vissuto questo momento e qual è la situazione? Beh, ci sono stati momenti di preoccupazione, perché quando si è sviluppato l'incendio non si sapeva le dimensioni dell'incendio e quello che stava accadendo realmente all'interno dell'ospedale. In ogni caso, guardiamo il bicchiere mezzo pieno e la giornata è stata sfortunata da una parte, ma fortunata dall'altra, non ci sono stati feriti, ma soltanto problemi che hanno riguardato la funzionalità, l'erogazione del servizio e la parte dell'ente, però soltanto danni alle strutture e nient'altro. Il Miulli adesso non eroga il servizio del pronto soccorso, oggi e credo anche domani, ma verso l'evento ci sarà una comunicazione ufficiale da parte dell'ospedale Miulli che riferirà su quella che è l'operatività dell'ente. Credo che sia il caso di ringraziare l'intervento effettuato in maniera molto tempestiva da parte dei vigili del fuoco e un altro ringraziamento, un plauso, va fatto anche ai dipendenti dell'ente che hanno gestito la situazione in maniera molto tempestiva e sono riusciti anche a mettere in salvo tutti i degenti, i pazienti e quindi anche grazie a loro non è successo nulla e oggi possiamo dire che è stata una giornata sì negativa ma comunque una giornata che ricorderemo soltanto per i danni che si sono verificati alle strutture. Ecco Sindaco, prima di andare nei dettagli per quello che è successo all'interno, quindi per la bravura da parte degli operatori sanitari veniamo a questo. Non è il caso di verificare se vi fosse magari la possibilità di chiare un qualche cosa di pronto intervento non dico una caserma di vigili del fuoco ma qualcosa che abbia a che fare con la protezione civile anche se di limitate grandezze per poter fare dei piccoli interventi come la situazione che è successa nella zona ex 167 insomma in attesa che arrivino i vigili del fuoco e purtroppo hanno bisogno del tempo materiale per raggiungere la città di Acquia dalle fonti. Diciamo che oggi è stata una giornata un po' particolare perché l'incendio presso il Miurli che sicuramente è stato accidentale è coinciso con ben due incendi avvenuti in loco e cioè alla 167 e dalla zona industriale. Purtroppo una volta insediati ci abbiamo trovato l'appalto per la manutenzione del verde pubblico scaduto e i tempi tecnici per affidare di nuovo il servizio ci hanno portato ad affidare il servizio mercoledì della scorsa settimana all'azienda che si è aggiudicata l'appalto e ovviamente in pochi giorni non è stato possibile manutenere il verde a dovere in tutte le zone del paese e in alcune zone dove l'erba non è stata ancora tagliata e nelle quali il caldo aveva determinato le condizioni per lo sviluppo degli incendi, in alcune zone, in queste due zone, cioè 167 e zone industriali si sono verificati due incendi. Se sono stati dolosi o se sono stati accidentali non lo sappiamo fatto sta che ci sono stati questi disagi per i quali da una parte chiediamo scusa ai cittadini pur non avendo noi come amministrazione delle colpe specifiche dall'altra assicuriamo che interverremo in maniera prontissima a cominciare da domani alle 5 e mezza di mattina quando l'azienda Pichicero di Cassano delle Molge manderà degli operatori a eseguire il taglio dell'erba nelle zone di nostra competenza in modo da evitare spiacevoli eventi come quelli che si sono verificati oggi. Vediamo quindi a chi ha operato sul campo e quindi a chi si è sacrificato per mettere in sicurezza i pazienti ma anche importante chi ha dovuto fare un'azione di vigilanza per quanto riguarda la viabilità. Ecco abbiamo visto agente della Polizia Locale e vi garantisco che nelle ore che vanno da mezzogiorno alle 16 stare anche se con il copricapo sotto il sole cocente di questi giorni non è insomma cosa facile. L'abbiamo visto all'opera perché come lei ha detto sindaco se il pronto soccorso è chiuso era bene non far accedere persone che sarebbero ritrovati all'interno di una emergenza. Gli stessi dipendenti dell'ospedale Miulli che si sono dati da fare perché nel momento in cui come lei ha ben sottolineato è necessario spostare i pazienti da un reparto a un altro bisogna fare un lavoro immenso e soprattutto sincronizzato perché altrimenti quello che sta facendo Marco lo sta annullando Gino o viceversa. Quindi dobbiamo dire che in tutto questo c'è chi ha avuto la possibilità di nascere comunque anche se non nel suo reparto è stato portato alla luce una vita. Non voglio dire altro perché ci teniamo alla riservatezza di quanto accaduto ma sicuramente la gioia di quei genitori che hanno visto nascere il proprio pargo. Ecco tutti si sono impegnati anche durante l'emergenza. Gli stessi pazienti e parenti che hanno dovuto assistere a quello che accadeva e quindi stare lì in apprezzione e collaborare. Quello della nascita è stato un evento lieto nell'ambito di questo giorno sfortunato per il Miulli però il prodigarsi di tutti i dipendenti del Miulli, la macchina, l'apparato dei soccorsi dimostra che il Miulli era organizzato anche per eventi eccezionali come quello di oggi i dipendenti evidentemente erano formati e pronti a gestire l'emergenza e per fortuna grazie a tutto questo è andato tutto bene per cui credo che ci sia da fare un plauso sia a tutti i dipendenti del Miulli e all'organizzazione che sta a Monte oltre che un plauso alla nostra Polizia Municipale all'assessore al ramo, a tutte le forze dell'ordine che sono intervenute ed anche ai vigili del fuoco soprattutto che ripeto sono intervenuti in modo molto tempestivo e sono riusciti a domare l'incendio prima che potesse causare danni peggiori rispetto a quelli che si sono verificati. Allora Sindaco, che altre novità ci sono? Ci dica qualcosa di buono Lasciamo adesso il Miulli o abbiamo da aggiungere altro per il Miulli? Ecco, è qualcosa di buono? Per il Miulli non c'è altro da aggiungere se non che ulteriori comunicati verranno fatti da parte del direttore amministrativo sicuramente e della direzione sanitaria, suppongo che in serata almeno così mi è stato riferito Che cosa dire? Per il Paese stiamo cominciando a produrre qualcosa di positivo a breve, in questa settimana probabilmente per Piazza Vittorio Emanuele realizzeremo le indagini georadar che ci porteranno che sono il primo passo verso quella che sarà poi l'attività di ristrutturazione a cui la piazza sarà sottoposta Altre novità, stiamo lavorando in maniera molto intensa per l'ente stiamo preparando i riequilibri di bilancio oggi abbiamo fatto giunta, domani abbiamo di nuovo giunta siamo riusciti a portare, a transigere un paio di controversie negli ultimi due mesi in un'ottica di miglioramento di quello che è il carico che l'ufficio contenzioso ha accumulato in questi anni contiamo piano piano di andare a regime e di fornire risposte ai cittadini siamo in partenza con quello che è la manutenzione del verde pubblico per cui nei prossimi giorni e nelle prossime settimane si vedranno risultati stiamo portando a compimento l'attività di derattizzazione diciamo che c'era stata segnalata qualche criticità e quindi stiamo procedendo anche su questo campo e per il resto pian piano si vedrà il risultato della nostra attività e del nostro lavoro ecco sindaco, lei non so se lo ricorderà ma ha lo sport nelle sue funzioni non ha delegato nessuno quando abbiamo parlato con i servizi sociali con la dottressa Morano e i servizi sociali, politiche sociali è venuto fuori che alcune tematiche devono essere condivise con le attività sportive e abbiamo pensato a tutti questi ragazzini, a questi bimbi che andando a scuola magari sono per strada, a tirare un calcio ad un pallone ed è una valvola di sfogo per loro che cosa sta pensando il sindaco avendo questa delega insieme all'aggiunta non so, i funzionari o è ancora prematuro per parlare di sport? Diciamo che ci stiamo organizzando per la nuova stagione cioè quella subito successiva all'estate per quanto riguarda l'estate proprio oggi abbiamo concordato con alcune associazioni sportive l'utilizzo di un campo da basket e da pallavolo che è situato nella zona 167 c'è l'organizzazione dei campi estivi di cui si sta occupando l'assessore Morano per il resto stiamo rivedendo quelli che sono i servizi di affidamento del campo sportivo e del Tommaso Valeriano per cercare di coordinare e di andare incontro a tutte quelle che sono le esigenze delle varie associazioni sportive che utilizzano le strutture comunali Ecco sindaco, una domanda le la devo fare ecco, questa è quella più difficile quindi si prepari non so se dovrà indossare la fascia comunque io la faccio lo stesso ha mantenuto la promessa di fare gli auguri al papà ecco ieri a parte i telemaic ecco, no, perché lo dobbiamo rendere pubblico altrimenti adesso il papà saprà che noi gli abbiamo fatti gli auguri tramite il figlio Sì, mio padre lì ha compiuto 95 anni ho portato gli auguri della redazione anche a mio padre che è stato felicissimo di riceverli nonostante l'età è lucidissimo per cui apprezza molto questi piccoli gesti anche della redazione di Telemaic e del direttore Grazie e buon lavoro Grazie e buonasera a tutti